Era impegnato in lavori di pulizia in un'aiuola quando è stato travolto e ucciso da un furgone uscito di strada. Un incidente tremendo avvenuto lungo la statale transpolesana in direzione sud, in provincia di Verona. La vittima è un uomo di 42 anni. La tragedia è avvenuta nell'area ridosso di un distributore di carburanti. La violenza dell'urto è stata tale da richiedere anche l'intervento dei vigili del fuoco. Inutile ogni tentativo di soccorso al lavoratore. Il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte. Ferito il conducente del furgone assistito dai sanitari e trasferito in ospedale. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri.